Quello che chiamai? No dai facciamo questa la devi niente Bella regà bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale Siamo di nuovo qua nel demolitore abbandonato ragazzi a distanza di tempo sono venuti e si erano un po' cercati di questo posto e ci venivano a dormire praticamente un gruppo di persone che abitava qua dentro Sono venuti e l'hanno buttato fuori e hanno fatto un po' di pulizia andiamo a vedere e facciamo poi le comparazioni Buone matti, io sono matti tutti Però hanno smontato completamente la serie 1 del golf Speri 1 del golf Speri 1 del golf Speri 1 del golf Speri 1 del golf Ragazzi dovevate capire che queste mezzi qua Cioè vi farò vedere poi l'altro video, facciamo le comparazioni Quindi farò vedere tutto Che storia, hanno smontato tutto E qua si passano Comunque non abbiamo visto un tunnel la scorsa volta, l'ultima volta che siamo venuti qua Ci siamo perché a causa di tutto lo schifo che c'era Oh, l'abbiamo trovato Che cos'era? Il tunnel Quello che non trovavamo Occhio che qua si mette Come cazzo si ci arriva lì sotto? Da là giù Questo è quello che non abbiamo trovato Oh mio Dio Questa è una morte Era una morte Era una morte Se incontra coglione Questa invece è una ruota di quel Ponte raga Qua non si muoverà più eh Però Bellissimo Buon выз Durante un po' piccole le cuffie Dei semi assi Vuoto Eh sì, devo lasciarlo per te. Che cazzo c'è qua dentro? Mi dici che piccoline quelle versioni? Sono delle prime macchine. Ecco. Ragazzi. Guardi, guardi. Non c'è, siamo neancori. Ti sapevo che ci potrebbero essere in funzione. Perché sbattoni? Tagliare tutto, Ale. Buonasera. Ci riuscire a... prenderci lo sobraio. Ho potuto riuscire. E' tantissimo che è la stessa. E' tantissimo che sia la stessa. E' tantissimo che è la stessa. marmitte non ci credo eccolo qua il Magist ci sono tipo una marea di ranni c'è tutta la famiglia di spavio occhio a te ragazzi questa qui questa qui aprilia questo è un peccato è un peccato questo anche quella che c'è dietro bello, bello è un peccato è un peccato è un peccato è la prima che c'è questa non la porterai qui no vabbè non metterla a sta parte però bella è Ale questa qua voglio capire che motore 50 50 è una pausa è un peccato è un peccato è un peccato passate da sotto hanno smontato un furgone hanno messo una vespa qua che telaio questa è una sportiva la bara è l'XSR è l'aio onda, Italia una onda è anche messo prendere sotto l'aria finta da un po' si sente che era un po' un po' c'è un po' un po' c'è un po' 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 qua c'è comunque qualcosa guarda com'è la sedia il tavolo qua trici satanici guarda quante sigarette è una postazione per fare bomba guarda il sacchetto i sacchetti per terra qua ci vengono a fare i pacchetti di coca veniamo via di qua possiamo uscire a fare pesante ci dobbiamo uscire bisogna fare queste scale qua veramente da tanto tempo sti cazzo di pantaloni che mi ha dato i xavix ragazzi sono stretti dobbiamo toglierci lo spizio di vedere se c'è ancora il telaio da là stai lì stai lì? stai lì? stai lì? eccolo che cilindrone? stai lì? stai lì? stai lì? stai lì? c'è un cilindrone da paura ma già? in mezzo alle farfalle ti capisco? stai lì? vado a vedere voglio vedere non abbiamo potuto andarcela questa volta e secondo me anche questo potrebbe essere stato chiuso qualcosa è troppo fresco qua vuole anche le farfalle vuol dire che c'è qualcosa dietro è una vera spartetta dovrai dilaniata attenzione lì Grazie. Oh, ma c'è sti? Ma c'è sti? Eh, no. Non c'è sti? Non c'è sti? Non c'è sti? Non c'è sti? Oh, ma c'è sti? Grazie. 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 Cos'è? È schiuma. È la schiuma delle finestre, non l'hanno mai completato questo cosa. Unico. Unico. La pilota. Andiamo visite. Grazie. 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 Andiamo via. Andiamo fino a via e vediamo un po' da sopra se si riesce a capire le entrate. Questa è l'orientamento. Se entriamo da lì, c'erano le pareti bianche. Però cazzo. E qui viene anche tutto il lavoro. E qui viene l'interità. E niente ragazzi. Da oggi è tutto. Siamo andati a visitare il demolitore abbandonato a distanza di anni per vedere quanto procede il degrado. E raga veramente è una cosa assurda. Comunque sia vi terrò aggiornato per il prossimo video. Bada bonti.